Musica Questa sera celebrate 40 anni di attività, un'azienda familiare che ha allargato i suoi confini, siete comunque una grande famiglia, anche con i suoi collaboratori e con i suoi dipendenti. Sono orgoglioso e soddisfatto del risultato che abbiamo raggiunto, non solo in termini di crescita aziendale, ma anche proprio in termini della squadra che siamo, della realtà che siamo. E lo siamo, grazie proprio a tutte queste persone che questa sera ci hanno onorato della loro presenza. Ecco, voi le avete voluti anche premiare ad alcuni di loro? Beh, è stato proprio un riconoscimento, riconoscere il contributo che hanno dato per la crescita dell'azienda, perché noi senza di loro non andremo da nessuna parte, è solo grazie al loro contributo che siamo riusciti negli anni a crescere costantemente, che oggi siamo riconosciuti nel mercato come un'azienda che vende prodotti di qualità e che dà un gran servizio. La maggior soddisfazione è quando alcuni clienti, amici come Severino, come Alberto, come Alessandro, dicono, io sai, vado fiero di dire che mi servo dalla Rossi, per me è un motivo d'orgoglio. E questo per me è una gioia immensa, è impagabile. Non esiste moneta che possa ripagare questa soddisfazione. Questa sera avete voluto anche consegnare un bel contributo per i vostri dipendenti, lo possiamo chiamare un supporto per il caro vita. L'azienda esiste perché ci sono i nostri collaboratori, collaboratori che come tutti noi viviamo un momento duro, impegnativo a livello economico. L'inflazione reale ormai sappiamo perfettamente che è a due cifre. Purtroppo i salari sono rimasti fermi e quindi abbiamo veramente a cuore la situazione, quello che vivono quotidianamente i nostri collaboratori. e dare questo piccolo riconoscimento, questo piccolo contributo che possa aiutarli in qualche modo a far fronte alle spese ordinarie che purtroppo sono aumentate in maniera esponenziale e per noi vuole essere proprio un simbolo, un ringraziamento simbolico. Senta, il ricordo più bello di questi 40 anni, visto che è una serata Marcord? Ce ne sono tantissimi, ma diciamo che questa serata sarà sicuramente un bellissimo ricordo, veramente molto bello, una serata calda, bella, genuina. Una grande emozione che viene condivisa con tutti i membri della famiglia. Questa sera per voi è una vera e propria festa? Effettivamente sì, guardi, è una cosa grandissima, veramente. Quando lei ha iniziato 40 anni fa si sarebbe aspettata di arrivare dove siete arrivati? No, questo no. Speravo che andasse bene l'azienda perché mio figlio era molto intelligente, lo vedevo molto preso, insomma, avevo tanta fiducia in lui, veramente. E allora, però, da arrivare a questo punto non l'avrei mai pensato. Senta, qual è stata per lei la soddisfazione più grande che ha avuto in questi 40 anni di attività e di vita aziendale? Di vederli crescere così, vederli, cioè, che si impegnano, che ce la mettono tutta per andare avanti, per avere sempre qualcosa in più, insomma. E allora sono soddisfatta che vedo... Orgogliosa come mamma? Sì, questa tanto, sì. E ora anche i nipoti? Ora i nipoti sono orgogliosa. Sì, questa tanto, sì.